ciao ragazzi bentrovati bentornati sono in miniera recupero un po di ferro e vado ad archi in questa volta però ho fatto lo scrigno così se muoio sopravvivo andrea collegato con noi ciao a tutti eccoci qua allora andrea sentito voglio giusto recuperare due cosette innanzitutto posso fare mio proverbiale arco perché ho visto che ciò legno e corda e quindi eseruti da come vi anticipare andiamo alla ricerca del nuovo mondo allora io vorrei trovare un posto un po più lontano da luke poco poco in modo che stava ognuno per i fatti proprio andrea vado giù qua a cercare del ferro perché mi sa che ne abbiamo bisogno dammi tempo di trovarlo e non manca tanto spero che non mi prenda il creeper che c'è lì un creeper enorme eccolo preso benissimo o piccone di ferro da usare benissimo prendo dello smeraldo qui dello zaffiro e va bene allora io recupero un po di ferro l'ho già visto qua così ti porto un po di materiali interessanti ok mamma mia io sto guardando un attimo da quanto siamo distanti a casa di luke ma un dungeon questo andrea questa sarà da esplorare e mette waypoint si si l'ho già messo questo è proprio un dungeon con tanto di miniera sotterranea allora io ti aspetto alla piazza si dammi pochi minuti non ti farò aspettare una vita giusto il tempo di trovare il ferro e sopra la mia testa guarda ci mette veramente poco vi faccio un piccolo ponte senza morire allora io intanto vado avanti a spianare un attimino qua ciò che ci si si io guarda arrivo subito prendo carbone ferro porto la mia roba dietro e dopo che abbiamo una casa decidiamo dove stare perché luke secondo me davanti a quel posto vorrà fare qualcosa di grosso andrà a fine che ci tocca litigare sinceramente non mi va devo dirti la verità non mi sembra proprio il caso è il mondo enorme prende invece tutto lo spazio che vogliamo poi faremo una bella ferrovia e metteremo in contatto i posti tanto con la super con super binario veloce della railcraft c'è un minuto e va dalla parte all'altra è veramente alla faccia delle dito le fresce rosse quindi vai tranquillo c'è la distanza è giusto per rispettare che ognuno si fa i fatti suoi poi se all'ingresso nel server vuoi vedere i progressi di tutti prendi il trenino ti va a vedere come sono andati gli altri cosa sono costruite eccetera eccetera però già ho sentito qualche lamentela ma giustamente abbiamo ricominciato per dare a tutti un po di spazio giusto e se poi ci amassiamo come una massa di lemming in calore no ma i lemming sono belli io ricordo a tutti che intanto io andrea d'archim studio power event e eternal love abbiamo deciso di fare comunque un piccolo villaggio perché ci piace l'idea di un villaggio di di mine friends andrea la nostra serie si chiamerà my friends esatto no senza la s my friend esatto va bene perfetto andrea qua c'è una valanga di materiale è l'amica miniera non la miniera degli amici la miniera mica sì va beh lascia stare il mio inglese facciamo così la chiamiamo my friend perché si dice in italiano non si dovrebbe designare al plurale le parole straniere insomma ok quindi ok perfetto non c'è bisogno di non c'è bisogno si ho detto una parola stupida mia volta andrea qui c'è un dungeon basta essi io torno indietro mi sono salvato il punto ho trovato una spada di ferro per te andrea ma l'ha lasciato lo zombie è vero spada di ferro ma l'ha lasciato che però io sono un attimo alla ricerca di un porco perché andrea non dire parolacce è il porco come chiamano maiale porco scrofa verro suino ok andrea io sono a circa dieci di ferro con questo abbiamo abbastanza per farci un po di qualcosa per almeno non crepare al primo colpo no sì sì sai che io odio andare in giro senza corazza c'è già di base adesso mi faccio subito la corazza corazza e arco quando quelle due cose sono felice oh mamma 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 no vabbè se vuoi non lo faccio l'arco no io sto guardando il mondo qua perché siamo capitati in un posto dove c'è l'immenso ghiacciaio che pale la ghiaccianza e non sopporto il ghiaccio va bene andrea ho venti di ferro direi che basta l'uranio a cosa serve per fare il coso nucleare lo teniamo perché può essere una buona forma di scambio per il signor luke visto che lui vuol fare una centrale io però sono contrario nucleare lo comincerò a fare quella solare per noi sopra casa nostra giusto no vabbè quello la possiamo chiedere a surreal sì io preferisco a luke però io fornitore di fiducia da anni beh se surreal mi fa un progetto migliore a meno prezzo perché no perché no è la concorrenza amici è la concorrenza caro mio esco dalla miniera e vuoi già preparare una bella fornace ma io va che sono gengico per il mondo sì sì ok va bene lascio giù strumenti di legno possono servire se muoio non 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 perché non voglio ma perché ho quattro cuore c4 bistecche sì e avremo un attimo di fame quindi sono a caccia di porci io non ho messo il buio quanto il villaggio lo sai già vero ma scusa allora che facciamo siamo separati no vengo da te dai no viene al villaggetto che poi infame infame il villaggio a 670 adesso ormai me lo ricordo 670 si raggiunge andando in basso in alto andando in alto perfetto ah io guardando la mapo ho visto due posti molto belli andrea c'è una spiaggia molto carina però l'ha prendente l'ha prendente presa di uke quella lì giusto eh sì giustamente chi prima arriva me li alloggia e io quindi noi siamo praticamente però c'è un altro posto interessante andrea l'hai visto cosa che palle si creeper sto tentando di ammazzarne uno c'è un altro posto interessante qua scusa ma sa quello che avete spianato voi sì ho capito voi avete spianato un posto in mezzo alla montagna poi hai fatto anche una strada sì ok ho capito va bene allora a me va benissimo semplicemente io voglio mettere un po più fuori qua dove c'è una piccola spiaggetta basta sai che io sono un amante del mare qua esattamente è qui che voglio la casa benissimo scusami dove è che l'ho fatta io la piazza chi è che ha scavato sta miniere e l'ho fatta fare io ho iniziato gli eterna la uva hanno finito andrea vuoi la spada di ferro l'ho trovata da solo zombie ti do la mia un po consumata tengo quella nuova ma che bella grazie benissimo adesso appoggio qua scusa ma quando va bene dove voglio costruire io casa nostra sarebbe qui sulla spiaggia allora va bene e no perché pensava che era troppo vicino a chi luca cosa ci divide da qua a lui adesso vediamo la distanza è la mia morte sono no devo mangiare per forza subito 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 c'è la roba a cucinare prendila di cibo ce n'è e poi mettiamo a cucinare il mio ferro benissimo benissimo allora andrea sì io guardo la mappa a occhio e croce la casa di luca e oltre questo tratto di mare giusto e di qua viene seguimi 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 mostrami solo la direzione a occhio guarda allora se apri aspetta viene un po qua allora se vieni su questa sponda qua dove sono io in questo momento sulla grande mappa la vedi ma proprio c'è lontano lontano ah beh si vede sì sì abbastanza lontano dai sì 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 può farsi tutto il suo porto noi passiamo con la ferrovia di fianco è quello che dicevo io prima la ferrovia esattamente lungo la parte nord e facciamo un bel ponte dall'altra parte esatto ottimo si vede che ha capito male lui chissà che ha capito allora andrea io farei la piantagione di papiro al volo che ce l'ho qui e ne vedo anche di là e poi facciamo facciamo quattro mura di casa dai io ammazzo sti creeper metti giù una casa di pietra fermati scusami ti posso dire una cosa e dimmi quello che vuoi ma mettiamo la casa di pietra basta che non mi fai voragini qua perché siamo no io ammazzo i creeper non faccio voragini ok non so se ci siamo capiti e allora vado giù un attimo in miniera a prendere un po di robette basta la pietra ciao 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 cico ecco anzi per piacere mi fate del grano e consegniamo a loro dei semi ce l'ho to gli do il papiro ok e le ossa ecco qua benissimo andrea non si riescono a tirare dentro l'oro no no salta di x story a parte che salta di x story già prima si parlavamo un po sopra va bene allora andrea dove sei eeeh qua spetti di criticare quei ragni quei cosi andiamo a scavare dai la casa la facciamo qui eeeh dimmi tu che angolo la vuoi fare qua sul mare non mi sembra una cosa qua questo è tutto nostro basta si si mentre scrivi puoi leggere cosa fai a meno chi non vuole leggere ascolta ho scritto ai ragazzi di andarsi a costruire la casa dove vi pare la coltivazione dove vi pare andrea dovremmo andare in miniera a scavare un po' di materiale e poi ci facciamo le pareti della casa va bene allora metto giù la roba nella chest io vorrei fare le basi per fare almeno l'ingresso verticale in miniera con la super railcraft e i binari più fighi del mondo quindi adesso ah la prima cosa da fare nooo morto mi ha fatto esplodere la chest sto pirla di un coso beh io io metto uno scrigno ancora eeeh no quello non era mio oia io metto la roba nello scrigno qui eeeh quindi se andiamo in miniera devo farmi qualche piccone in più perchè due picconi di pietra non facciamo niente eeeh si c'è del ferro qua te lo sto mettendo nello scrigno ti metto di dieci di ferro toh SATA scusa sto facendo ninja ok mazzato creeper occhio creeper ma non sono io oh oh mamma a chi è che hai fatto saltare in aria eeeh dove dovrà essere casa nostra è saltato tutto eeeh nooo e ma ce ne sono un po' tanti veramente veramente un po' troppi ce ne sono di questi creeper salto in aria amici non so perchè non ne posso più di questi server di creeper che palle che noia si i chiriello dicono leviamo anche loro vabbè va bene Andrea dove sei andato io non capisco eh sto tentando di dire su un po' di pietra perchè devo farmi dei benedetti picconi mi serve anche del legno per rifare le ceste e io ti ho detto ti do dieci di ferro eeeh oh ma basta guarda un altro è già il quindicesimo eh son troppi dai vado in miniera a prendere qualcosa eeeh io tiro giù un albero intanto beh senti hai abbastanza pieta per fare le pareti della casa? no lo screen è stato distrutto non c'è più eh ce l'ho in tasca si mancherà agni aiuto basta ah stanno scarando che carino che piccoli carini aiuto abbiamo una bella mineranza qua sotto si va bene ragazzi io recupero un po' di materiale che può sempre essere scomodo si comodo sia per scambi merce che per uso diretto vediamo nella railcraft mi serve tanto ferro, legno oro si oro molto quando si iniziano a fare minari avanzati perché sennò si va lenti come tartarughe e questo tin lo prendo a uso ammazza qua siamo già a uso lava perfetto siamo già alla lava qua altezza 10 ragazzi guarda qua lapiscazzolo ma questa è la schifolite ho trovato il ferro stai inventando tutti i nomi possibili per gli oggetti si lapiscazzolo vai lapiscazzolo non serve a niente in questo gioco praticamente serve solo per fare dei cubetti decorativi e per fare i colori blu in effetti e per la transmutation table per vendolo per gli MC allora qui c'è del buon ferro che si porta a casa con la facilità dei campioni tra che te nooo basta ma ha spaccato tutto e dobbiamo fare più presto ho messo un dei confini dai qualcosa per relegare quelle mosse di stanza le torce antimob per esempio chi è il deputato della costruzione delle torce antimob? penso a nessuno perché non ha un senso le torce antimob c'è il rubino qua Andrea tra poco avremo le armi in ruvino bene che sono sempre carine per iniziare e devo farmi secchio assolutamente se no si fanno brutta fine eh io sto chiudendo un buco qua va bene chiuso il buco no ba oh ma basta basta aiuto 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 mi descrivi cosa ti sta succedendo un altro creeper che mi ha fatto un altro buco e cosa c'è di strano in questo gioco? il simbolo del gioco è il creeper si e ma non così tanti però te hanno arrugato le pallette esatto ma che carini come scavano ma chi gli è lov? si sono questo timiniera che carini sono troppo simpatici allora a me serve tanta redstone anche tanta redstone allora sto cercando tre pezzi di ferro io sto tentando di ecco te le due di rimetterla a chest quella azzurra è la covalescence dust no è la nicolite la covalescence non si trova in natura va prodotta quella che ripara gli oggetti la nicolite quindi la raccolgo solo per i nostri alchimisti dei miei marroni va bene ah io cos'è che devo fare non mi ricordo più non ci faccio più ragazzi andiamo a dormire e non si può non ci abbiamo un letto non ci abbiamo se non abbiamo il letto? no allora vado a trovare delle pecore ma quanti alberelli si tutti i miei alberelli c'errebbe anche un alberello della gomma qua eh a noi ne serve meno serve più agli altri perchè noi non usiamo niente di quel tipo lì si però se devi tirare un filo di certo non serve per la raccolta sembra strano ma non serve no ma gli altri te lo fanno pagare il filo se hai bisogno di corrente quindi è meglio tagli la gomma d'accordo mi piacerebbe trovare un diamante non ha portato il secchio un'altra cosa intelligente sarebbe salire e fammi un bel secchio io sono a caccia di pecorelle mie pecorelle tra l'altro una marrone e una bianca tre pecorelle io c'ho la lana marrone perchè io devo lanciare le spade nell'acqua vabbè ho buttato una spada di pietra tanto c'ho quella di ferro quindi pecorelle tiriamo su anche sti fiori che mi sembrano utili per fare i colori sembrano grassi sarebbe bello trovare un diamante ma forse è troppo pretenzioso quella redstone quel ferro però li voglio a tutti i costi si si ma un po' di fiorelline ho presi c'è anche questo che bellino vediamo cosa posso mettere qua marmo ci sono un mucchio di rutti mi sa che sono vicino un dungeon sono in mezzo alla lava e vicino un dungeon benissimo c'è qualcun altro di nostra conoscenza che i rutti che noi diciamo pensava che erano dei soffi che qualcuno gli soffiava sul collo ah si che fantasia perversa ok tanto redstone albero albero dalla gomma tiriamo giù l'albero dalla gomma beh posso fare un po' di legno a questo punto ok sono curioso di vedere se trovo un dungeon anche se non dovrei ma che gioca fa? esatto niente niente non lo trovo il diamante dai niente ci vorrebbe arrivare in road che non puoi fare? oro! chiedo se posso prendere l'oro per la fe ma chi è che lo chiede? posso prendere l'oro per la ferrovia chiede ragazzi perché? pare che mi hanno detto di sì grazie uuuuuh marmo la ferrovia usa una valanga d'oro io devo prendere un sacco di marmo ah io tra l'altro dove sono stato io era pieno di marmo dove sono morto diverse volte eh la casa dobbiamo farla di marmo Roby ah si? eh si marmo bianco facciamo il pavimento di marmo bianco le pareti di mattoni c'è anche del ferro ferro ok Andrea io ho recuperato un po' di ferro un po' di materiali misti anch'io ho trovato una bella vena mmm oro grazie questo viene molto buono ma perché è illuminato qua sotto? oh 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 perché è illuminato qua sotto? perché c'è una lava sì sono caduto no c'è una torcia ma non ho trovato un dungeon cavolo non passa niente ma scusa ma perché c'è delle ceste qua? l'ho fatta io è la mia miniera c'è una cesta e un fornetto no c'è una cesta e un una cesta con dentro un piccone è una roba di legno no? sì sì due alberelli un coso del ragno ecco te l'ho lasciata io quindi signor dungeon sì sì allora ma che efficienti questi ragazzi posso farmi subito la mia picconella di ferro e ne servirebbero due questa la sbattiamo via dai? via anche il fungo lo buttiamo via non mi serve a niente eh ragazzi un bel po' di materiali direi abbastanza c'ho dei materiali inutili qui a far niente sì mi servirebbe salire e farmi secchio per poter andare nel dungeon con più tranquillità la spada di pietra la posso buttare e lascia misero i fiorellini che cosa lo racconti a fare anche la pelle via tutto va bene va bene io sto rubando del c'è rubando prendendomi del buon merbol e io vado a vedere se riesco a trovare della simpatica mercanzia ah benissimo ho fatto le torce ottimo e anche questa singola asse di legno serve a niente io provo a cercare dei diamanti bene Andrea penso che la cosa più intelligente sarebbe farmi un secchio salire da te e con un secchio d'acqua puoi scendere con più tranquillità faccio un secchio anche per te ma io non sono in minira sto però un secchio viene sempre comodo si 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 cacchio che felche sono ma si può ancora alimentare la fornace con un secchio di lava? si si allora porto su due bei secchi di lava per la fornace vediamo se è sceso un bel alberello della gomma ragazzi manco a piangere in cinese Andrea forse abbiamo tirato un po' lungo per la puntata che dici va bene salutiamo beh ragazzi ciao a tutti io vado a fondere tutto quanto e poi ci rivediamo alla prossima ciao a tutti ciao ciao